ma bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul nuovissimo video di critical hoops come ben vedete siamo qua su questo bel gioco allora ragazzi è un bel gioco si chiama critical hoops è facile da giocare è come fortnite è bellissimo solo che io sono scassate che non scaricato tipo ieri che sono giocato e sono giocato e abbiamo questo è brillissimo e quindi e tocco qui è un bel gioco e non faccio vedere il gioco è un bel gioco è un bel gioco Quasi puoi scegliere la modalità Però vedete un match, diffuso o un game Io si erogo diffuso Andiamo ragazzi Vedete poi com'è Poi si possono comprare armi C'è la pass battaglia E' un po' come Call of Duty Se lo conoscete Lasciate un bel commento, iscrivetevi al canale E lasciate un bel mi piace Seguitemi su Instagram, tmlgb E se nel prossimo video Nei commenti Dite mi saluti Io nel prossimo video vi saluto E ok Come ben vedete Possiamo prendere le armi E questa è la lobby Prepartita Come ben vedete E Prendiamo le armi dai Allora Vector Prendiamo la vector Ehm Ok Si inizia? Ok si inizia Ora Ok ragazzi Allora 5 4 3 2 1 Ma perchè tengo il cecchino? No raga Vabbè Allora Vediamo dove stanno i nemici Un po' come Call of Duty Rainbow Six Raga Andiamo a vedere Allora 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 Siamo 2 contro 3 Come vedete In alto Noi cerchiamo Di camperare Mentre esplode La bomba Ecco Sta esplodendo Mettiamoci qui Ok Ah no ragazzi Non ho vinto l'ora Ma Ah Giusto ragazzi L'ora la dovevano mettere la bomba Non noi Ecco Me lo sono dimenticato Sempre l'ora la dovevano mettere la bomba Siamo 5 contro 3 Ok Qua si deve piazzare la bomba Quindi io mi piazzo qua No non posso Allora Cerco Cerco di salire Ma non si può Ok No No Non l'hanno piazzata Quella bomba Dove l'hanno piazzata Te lo devo ricaricare E mi entrava Ok Ce la facciamo Ce la facciamo Vai Sì Grande Ce l'abbiamo fatta Uno a uno Prendiamoci Un po' questa Dai Giochiamo un po' con le pistole Tanto Non è che cambia qualcosa Ragazzi Una bella iscrizione E un bel commento Se iscrivete sotto Mi salutate Io vi saluto Nel prossimo video E ci metto un cuoricino Ok ragazzi Allora abbiamo cambiato La prima L'abbiamo vinta Ok 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 Ho finito i colpi Comunque Comunque l'abbiamo vinta Con la partita Di prima Io Ho 19 di vita Stavo non lì Raga Sono troppo scarsa Mi devo allenare Di più Ok Quello là Lo pusho Pusciamolo Ok Ok Madonna raga Ok Ok raga Eliminato Niente ragazzi Vabbè Abbiamo perso i ragazzi Non fa niente Ragazzi Tanto non si perde niente E Niente ragazzi Se questo gioco vi è piaciuto Anche questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Mi chiamo TeamLGB E niente ragazzi Io con questo Concludo qua Con questa bella schermata Il loading E niente ragazzi Fate iscrivetevi Anche i vostri amici Vi chiudo Con questa schermata qua Ci vedremo Nel prossimo video Lasciate un bel commento Metto un bel cuoricino E vi saluterò Ciao raga Ciao raga Ciao raga